Ciao fresatore, benvenuto nel terzo e ultimo video tutorial dove imparerai quali sono i fattori che ho rinominato, un po' per gioco, un po' per provocazione top secret, che ti permetteranno di cosa fare? Di ottimizzare al massimo la finitura della tua fresata, anche se non sei un professionista e non hai a disposizione strumenti professionali nel tuo laboratorio, cantina, officina, industria o dove ti pare, perché valgono per tutti. Se ti sei perso i primi due video ti consiglio di recuperarli, trovi il link in descrizione, perché è lì dove troverai quasi sicuramente la risposta alle soluzioni di tutte, delle tue notti insonne, da fresatore frugolone e finalmente i tuoi incubi, delle fresate brutte, ruvide e piene di fusioni, saranno solo un brutto ricordo. E sì, perché oggi cosa facciamo? Analizziamo l'ultimo pezzo della torta antivibrante, quella che si ottimizza comunque solo se non stanno funzionando bene i primi due segreti, ok? Permettimelo ormai, ci ho preso gusto, dai. E comunque che è riservata solo una piccola percentuale di fresatori, quelli che comunque vogliono il massimo dalle proprie fresate e non vogliono scendere a compromessi, ok? Seguimi bene perché ci sarà anche un bonus di utensile mai visto in Europa, testato in anteprima. Ops! Chi sono io? Sono Matteo Rubinati, il fondatore di Fresetools.com, la casa della fresa, l'unico portale specializzato sulle frese e sulla fresatura di legno, alluminio e plastica, che cosa fa? Ti permette di trovare la fresa corretta per la giusta lavorazione, adattando i parametri della tua fresatrice oppure sei rimborsato. Hai capito proprio bene! Se ti interessa, prima di iniziare, voglio darti il link, ancora una volta, al nostro videocorso gratuito dove molti fresatori hanno appreso le basi della fresatura e hanno cambiato proprio le loro lavorazioni da così a così. Clicca qui sopra per accedere e scoprire come fare, ok? Quindi, bando alle ciance, andiamo subito a vedere il video di oggi, ok? E partiamo, cosa partiamo? Partiamo da farti capire questi due grafici al volo, no? Comunque, se già mi hai seguito dall'inizio, cosa sai? Saprai quali stiamo analizzando e quali abbiamo analizzato. Se non lo fai, se inizia questo video, tranquillo, un recap di due minuti, un minuto, permettimelo e partiamo subito. La finitura perfetta. Per fare una fresata con una finitura perfetta devi tenere in considerazione due fattori, ok? Il primo è quello, naturalmente è molto rilevante, ma meno delle vibrazioni, è quello di scegliere la fresa corretta. Sì, perché come da noi ci sono 4.000 modelli di frese, di diametri diversi, di modelli, di struttura, di geometria, eccetera? Quindi non mi puoi dire che le frese sono tutte uguali, ok? Questo lo possiamo constatare. E quindi però per ogni macchina, per ogni lavorazione e per ogni utilizzo c'è la giusta fresa e devi scegliere la corretta. Ma questo comunque è un po' agevolato, è molto agevolato, no? Sul sito, perché vieni su Fraser Tools, a parte tutto il sito guidato sempre di più, adesso ho anche con il Fraser Pilot tra un po', ok? Ma c'è gente, è vero, dietro che non è solo ti dice quanto arriva l'ordine, qual è il tracking, ma ti dice proprio qual è la fresa per la tua macchina e poi ti è data anche le lavorazioni. Quindi, diciamo, è una parte che non la approfondiamo perché tutti gli altri video che abbiamo fatto, i corsi, eccetera, la trovi lì. Invece questa bella parte che io ho attribuito più del 60%, cioè più della metà della corretta, è quello delle vibrazioni, ok? E questa tabella delle vibrazioni è divisa in tre, ok? Quindi lo stesso l'abbiamo diviso in tre, in cui il 41% è dovuto a questo ascerino qua tutto aiutato che non ti fa dormire la notte. Questo è molto, molto, molto importante. Prima cosa da fare è cambiare la pinza se qualcosa non va bene, oppure usala professionale. Seconda cosa, cosa abbiamo fatto? Abbiamo invece capito, se tante volte c'era bisogno, come montarla nel modo giusto, come montare le frese nel modo giusto dentro una pinza e come soprattutto adattare i parametri di lavorazione. Ho fatto un po' una cosa generica perché è molto difficile andare macchina per macchina, ma quello ci siamo noi. La nostra assistenza, scrivici e con le nostre frese naturalmente, le nostre pinze, siamo noi a fare i test insieme a te, se dovessi andarmi male qualcosa, vai tranquillo che ti rimborsiamo. In ultimo, per ultimo, se hai già cambiato la pinza elastica, comunque hai adattato i parametri di lavorazione, prendi bene l'utensile in pinza e hai aumentato il diametro della fresa, ma ancora i risultati non arrivano, cosa vuoi fare? Allora andiamo a lavorare su questa piccola percentuale, no? 17%, del 60%, quindi è minima, ovvero quella del mandrino. Ci sono vari mandrini? Ci sono in ordine di tenuta e precisione, ok? Quindi andiamo con il classico mandrino attacco conico, ok? E adesso io non ce l'ho qua, questo non preparato, comunque qua, ecco qua, io mi sono tolto, c'è il video di come l'abbiamo preparato per poi fare il test, test che vediamo dopo, ok? E questo cos'è? È il classico che attacco HSK o ISO, ok? Che è ad altissima precisione ed estrema fidabilità, elimina qualsiasi difetto di rotazione perché è testato ed è certificato, acciaio speciale, alza di resistenza, rettifica di precisione su tutte le superfici coppiate, una bella potenza e ha comunque un'eccellente qualità di finitura del pezzo, se la finitura è maggiore, le vibrazioni sono di meno, aumenta la durata dell'utensile. E comunque è il mandrino classico che trovi su quasi tutte le CNC grossi, medio-alte, ok? Medio-alte, poi in quelle piccole naturalmente cambia in base alla macchina che hai. Ecco, mi raccomando, iniziamo da questo, se hai il mandrino della macchina buono, professionale, mi sta bene, ma se ancora usi mandrini a low cost, no, è ora di... Almeno passa a questo, ok? Che è la prima faccia di prezzo, quindi non è anche molto accessibile, ok? Poi, da qua, cosa facciamo? Aumentiamo la finitura, aumentiamo la tenuta e lo facciamo con un mandrino idraulico, ok? Il mandrino idraulico, eccolo qua, è questo qua. Ecco qua, mi vedo adesso, perché non mi sto vedendo, abbi pazienza. Il mandrino idraulico cos'è? Aumenta molto la precisione, ok? Perché comunque è fissato, il diametro è nominale, ok? Quindi non ha le pinze, basta mettere l'utensile e stringere questo qua che va a stringere idraulicamente, ok? Non bisogna stringere la vite se non è presente dentro l'utensile, perché sennò poi si rompono, si fanno male e poi quando arrivi alla stretta finale lo allenti un po'. Ecco, questo è un bel sistema tra il primo che abbiamo visto e quello che vedremo dopo per aumentare, diminuire le vibrazioni e avere un mandrino più prestante. C'è una tecnica che stiamo usando anche ultimamente, che abbiamo visto che funziona abbastanza bene, ovvero al posto di prendere ogni mandrino per il diametro, tipo uno da 8, uno da 12, uno da 16, puoi prendere direttamente il mandrino con il foro da 25 e abbiamo, mica io, comunque hanno utilizzato, abbiamo utilizzato delle pinze elastiche fatte apposta, ok? Ci sono proprio delle pinze fatte per questo mandrino e quindi anche qua ti prendi il mandrino più grande e puoi usare le varie pinze per montarci. I vari utensili, dulcis in fundo, dopo ce ne sono anche altre varianti ti dico i più diffusi, ok? È il mandrino per calettamento a caldo. Made in Italy, ecco qua, lo vedi? Questo qua vediamo insieme come si fa. Naturalmente per inserire l'utensile, anche questo è nominale, ok? Quindi ogni mandrino per gambo della fresa bisogna prenderle. Calettamento a caldo cosa vuol dire? Vuol dire che tramite un macchinario che stiamo vedendo viene prima scaldato, ok? Quindi scaldato poi messo dentro la fresa, ok? Deve essere naturalmente fresa in tolleranza, mandrino in tolleranza e poi andato a raffreddare in modo che, diciamo che non ha, ci sono meno accoppiamenti possibili, ok? È quasi come una saldatura, una fusione, ok? E quindi questo cosa fa? Diminuisce ancora di più le vibrazioni e ti permette una fresata liscia senza bruciature, perché permette anche con le fresi in metallo duro, ok? Rispetto al diamante, però sempre da 12 per fare il nesting, di tagliare i bilaminati con massima finitura, ok? Perché è importante, sappiamo che il diamante va benissimo, però è il metallo duro rivestito ancora più finitura del diamante. Quindi metallo duro rivestito con mandrino a calettamento, quindi riduce più possibile vibrazioni, avrai una tenuta massima, proprio la perfezione delle vibrazioni, ok? Se ancora ti vibra non dipende più né dall'utensile né dal mandrino, ma da qualcos'altro, ok? Spero di essere stato chiaro. Ora comunque che abbiamo fatto chiarezza sui mandrini, che andremo a utilizzare, passiamo subito al laboratorio e vediamo come si comportano e come puoi utilizzarli. Ottimo! Spianiamo dell'istrarre rovere a 12.000 giri, avanzamento 4 metri al minuto, mangiamo 1,5 mm per ogni passata e iniziamo con il porto utensili, con HSK-SV3F, con la nostra mitica Tornado. Il video è un po' velocizzato per andare un po' più veloce, altrimenti staremo qua 5 minuti ripetendo la stessa cosa. Con tutte e tre le frese comunque faremo la stessa cosa. Ora andiamo a prendere il secondo mandrino, che è quello idraulico, sempre con la stessa Tornado al 60, parametri sempre uguali, tutti e tre uguali. Comunque questa è una macchina professionale, ok? Le vibrazioni sono al minimo anche con un mandrino buono perché fa comunque manutenzione, è abbastanza nuova, eccetera eccetera. Quindi poi dopo vedremo alla fine che sono minime, ok? Le variazioni. Finito anche con questo, passiamo al calettato, ok? Ce l'abbiamo anche sul sito disponibile, è già da acquistare proprio questa sezione, sempre con la Tornado, e... Fresiamo, rovere, ristellare, annunzamento 4 metri al minuto, 12.000 giri e... Guarda che spettacolo! Poi anche il rumore mentre taglia si sente molto bene, qua non tanto perché è un po' difficile, però dopo... Dai, chi ce l'ha è soddisfatto! Tant'è che è la fresa più utilizzata in Europa. Ok, guarda, proprio stacco la telecamera per andare a far vedere il risultato finale, così non si può dire che non è... Eccoci qua! Tant'an! Hai visto? Bello, eh? Allora, bonus! Ti avevo promesso che bonus è? Abbiamo inserito un nuovo utensile. Non è il nostro, naturalmente. L'abbiamo fatto arrivare da oltre... Oltreoceano. Si chiama Lean Sand, ok? Che cos'è? È un... Levigatore orbitale da utilizzare sulla CNC che permette di levigare la superficie dopo la spianatura. Ok? E per farla diventare proprio ancora più liscia, come se fosse stata fatta a mano. E questo è un cosino che sta andando molto. Stiamo cercando di... di portare anche il nostro esempio. Ok? Questo perché costa un botto. Costa... Ti dico la verità, costa uno sfracasso di soldi. Costa più di 500 euro, costa. Però, comunque, è orbitale. E c'ha... Vedi, c'ha il... Non mi viene il termine, il rimando. Io lo chiamo al volo, scusatemi. E c'ha anche l'ammortizzatore. Vedi, che girano due... Sono separati. Te la faccio semplice, come sempre, no? Bene, fregatore. Con questa procedura, se trarai fede a tutte le nozioni che ho appena insegnato e condiviso con te, sarai sicurissimo che ridurrai al minimo le vibrazioni, rendendo la tua fresata liscia e senza bruciature, su materiali lignei, su legno, eccetera, oppure senza fusioni, per quanto riguarda la plastica e le leghe leggere. Ma lì siamo in questione molto più di frese, se non in certe lavorazioni, dove ti avevo già accennato nel primo video. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverci al canale, ok? E se vuoi approfondire, comunque hai tutti gli argomenti a disposizione e tutti i tecnici a disposizione sul megastore numero uno in Europa, fregiatools.com, la casa della fresa, dove troverai la fresa adatta alla tua lavorazione e adattando anche i parametri della tua macchina per il tipo di materiale, con il nostro tutor, gratuitamente, oppure sei rimborsato, ok? Io ti ringrazio ancora di essere stato con me in questa sessione di video. Spero ti sia piaciuta e ti sia stata utile più che altro, ok? Fammi sapere, fammi sapere se migliori le frasate nei commenti e per qualsiasi cosa siamo a disposizione. Ci vediamo al prossimo video e stiamo preparando una grandissima, grandissima, grandissima sorpresa per tutti voi, frasatore. Entro quest'anno o il prossimo anno ci sarà una rivoluzione ancora una volta nel mondo degli utensili. Al prossimo video. Ciao. Ciao.